Musica Fabrizio Arduini del WWF, zona frentana, punta penna, motta grossa, oggi è una giornata in cui vi siete dedicati alla raccolta dei rifiuti. Esatto, oggi è la giornata mondiale della biodiversità per rimettere un punto importante, io direi esclamativo, su quello che ci tiene in vita la biodiversità. Abbiamo pensato di prenderci cura di uno dei posti più amati, almeno qui a Vasso, ma anche per gran parte della costa di Atina, che è la spiaggia di Motta Grossa, che purtroppo era piena di rifiuti. L'abbiamo fatto coinvolgendo anche popoli che fuggono dalle guerre, perché il concetto base della biodiversità è la coesistenza tra le miriade di forme di vita, che sono legate dalle più piccole alle più grandi, da un sottile filo di collegamento. Quindi gli uomini devono imparare a coesistere fra di loro, ma anche a coesistere con quello che lo tiene in vita la biodiversità. Amid, mediatore culturale che collabora con l'associazione Matrix, siete stati coinvolti in un bellissimo progetto. Sì, veramente è un bellissimo progetto, questo progetto anche di biodiversità è un modo anche per stare insieme, per far conoscere l'altro. Tra polizia e l'altra ci conosciamo, diamo la possibilità a altre ragazze che profughi, che vivono nei centri vicini, di farsi conoscere e conoscere anche gli altri. Questo è un bel momento di integrazione anche. Alessia Felizi, la riserva di Punta Derci è un fiore all'occhiello della zona del Vastese, però serve magari più prevenzione e più rispetto. Un fiore all'occhiello che purtroppo però spesso viene un po' minato dai rifiuti che arrivano purtroppo dal mare, spesso i turisti non lo capiscono e quindi oggi abbiamo voluto ripulire da quello che il mare ci riporta anche insieme al Centro Studi Cetacei che ci ha dato una mano, che collabora con noi, al WWF, agli amici di Punta Derci e a soprattutto questi ragazzi che vengono dai paesi lontani e che hanno con noi in comune il mare e soprattutto i rifiuti che ci sono nel mare. Valentina Giuliani del Centro Studi Cetacei di Pescara, anche voi avete partecipato a questa bella iniziativa? Sì, siamo qui in Vastese di Centro Studi Cetacei, ci siamo stati invitati dagli altri enti che sono qui della Punta Derci e qual è la migliore occasione di venire qui perché noi comunque abbiamo la tutela del mare e delle coste abruzzesi tra i cetacei e tartarughe marine nel nostro territorio abruzzese. Grazie a tutti!